L'Oimpiclione ha avviato i negoziati con il Napoli per ottenere yes per Lindstrom in prestito. La notizia proviene dal portale francese Footmercato, che riferisce di discussioni in corso tra i due club. Fonti vicine alla società partenopea indicano che l'accordo tra le parti sarebbe quasi concluso. Lindstrom ha dato l'ok.Resta da definire se l'operazione si concretizzerà come un prestito secco o se includerà un diritto di riscatto, come preferito dall'All, o addirittura un obbligo di riscatto. La cifra per l'eventuale riscatto si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Yes per Lindstrom, ex giocatore dell'Aintracht, avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento a Lione. Grazie per la visione!